La nostra azienda da oltre 100 anni si occupa di innovazione ma soprattutto del bello ben fatto che è un po' una caratteristica dell'azienda italiana e per quanto riguarda proprio questa collezione Regeneration e del rapporto con la Coop abbiamo voluto portare un'innovazione importante per quanto riguarda la green economy o l'economia circolare. Da un paio d'anni la nostra azienda ha lavorato con ricercatori, università, con AICO, REPLA e i nostri tecnici per la messa a punto di un materiale unico al mondo quindi siamo un'eccellenza per quanto riguarda proprio l'utilizzo di questi nuovi materiali che possono andare in lavastoviglie a 55 gradi ECO e possono avere il contatto con gli alimenti. Questo ci ha consentito di fornire alla Coop un progetto e un prodotto di eccellenza che al mondo non c'è un'azienda che ha realizzato un prodotto analogo quindi siamo orgogliosi e si è stati i primi insieme a una grande distribuzione italiana che rappresenta un po' quello che è la sensibilità verso l'economia sostenibile e la green economy. La partnership con Coop è nata attraverso un'idea che mi era nata dopo aver analizzato un po' le varie catene della grande distribuzione per percepire quale catena avesse posto al primo posto l'economia circolare e la green economy e la sostenibilità. Coop è sicuramente un'eccellenza su questo punto e tramite un amico comune che è Oscar Farinetti mi ha consentito di poter incontrare l'amministratore delegato Maura Latini con la signora Pascarelli, la dottoressa Pascarelli che si occupa appunto di qualità e con lei abbiamo fatto vedere i nostri progressi dal punto di vista tecnologico dei materiali di seconda vita che noi avevamo già avuto esperienza da ormai da diversi anni. Da lì è nata una sfida, una sfida comune di poter realizzare una sorta di collezione che viene chiamata Regeneration, la collezione, che potesse essere comunque disponibile al consumatore Coop per contenere i cibi e per utilizzare questi contenitori dal frico, tavola, microonde o qualsiasi altra cosa che uno potesse comunque usufruire. La collezione oggi è unica, non ce ne sono come ripeto nel mercato internazionale e quindi siamo orgogliosi insieme con Coop di aver ottenuto questo risultato. Grazie. Grazie. Grazie.